Un saluto a tutti i lettori di GizChina.it, stiamo testando oggi la fotocamera del Lenovo K920 con modalità 1080p. Mi avventuro come sempre per testare lo stabilizzatore ottico. Proviamo anche lo zoom che rende in maniera un po' pixelata. Proviamo la messa a fuoco manuale sulle foglie. Ritorniamo indietro per testare anche la modalità contro luce. Grazie. 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 Grazie.